Amici e amici italiani all'estero, siete una marea di gente pervene, orgogliosi del nostro paese, della nostra bandiera, della nostra cultura, della nostra storia. Aspettiamo anche il vostro voto, il vostro voto in tutto il mondo, in tutta Europa, Nord America, Sud America, Afonia, Australia, Asia, ovunque, anche a voi, rispetto alla libertà di scegliere chi governerà l'Italia per i prossimi anni. I candidati della Lega ci sono in tutto il mondo, liste del centrodestra, Salvini, Meloni, Berlusconi, ci sono in tutto il mondo, non lasciate che siano solo i soliti di sinistra a rappresentare le città straniere nel Parlamento italiano. Guardate che spiegate, questa è l'Italia, l'Italia aspetta voi, le vostre idee, le vostre fatiche, il vostro voto da oggi in avanti si può, si deve votare per milioni di italiani all'estero, è arrivato il momento. Se registrate qualche problema, qualche irregolarità, si legge di brogli, di fregature, di schede già compilate o di schede che mancano, segnalatemelo sui social oppure a una mail info-legadelmondo.it perché non è giusto che vada avanti i furbetti e i raccomandati. Viva l'Italia!